che cos'è musica materiale? musicali è un duo che si è formato intorno al 2008 ci siamo conosciuti per caso io suonavo a termi e ci siamo conosciuti mentre io suonavo della musica differente da quella che faccio a posta a terra lui si è innamorato del sassofono è nato perché si siamo innamorati e poi è venuta fuori la musica Laura, va bene, diplomata laureata a Perugia in sassofono jazz, grande voce, io invece a Tern, a Bricialdi con gli alenti quindi percorsi lei jazz e io percorso classico e alla fine ci siamo trovati sulla musica, sulla grande musica la autora italiana, la musica sudamericana